Innovazione sociale, digitale e parità di genere. Questo è il titolo del convegno ospitato dalla città metropolitana di Milano che ha visto succedersi gli interventi di numerose esperienze di successo femminile nelle diverse tecnologie. Donne di successo di provenienza STEM, Science, Technology, Engineering and Math, cioè Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, hanno raccontato e mostrato buone prassi che partendo dalla progettazione digitale hanno avuto un impatto sulla qualità della vita. Questa mattina questo incontro sul rapporto tra le donne e la tecnologia, direi il virtuoso rapporto tra le donne e la tecnologia, motore di sviluppo, di semplificazione, di miglioramento della vita quotidiana delle persone è al centro di una delle azioni più forti che possiamo fare, la struttura delle reti, l'organizzazione dei rapporti tra il lavoro, le professioni, l'organizzazione della vita delle amministrazioni e anche il miglioramento e la semplificazione della vita dei cittadini e delle cittadine. Io credo fortemente nel legame tra donne e il digitale e penso davvero possa essere un'opportunità da tantissimi punti di vista. Intanto il digitale e la tecnologia offrono la possibilità di ripensare, migliorandola, la propria organizzazione del lavoro, grazie per esempio allo smart working, che permette una migliore conciliazione tra la vita professionale e la vita privata. La vera innovazione però non sta solo nello strumento, ma nell'attuazione di politiche pubbliche e aziendali che incentivino davvero il suo utilizzo.